Ma, ma nulla, trovai l'aiuto regista e riusci a conoscere il villaggio e Fantozzi e quindi poi mi propose questo personaggio, avevo già 30 anni appunto e Maria Angela e sono stato fortunato perché poi sono passati tanti anni e si parla poi sempre delle stesse cose, quindi vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di buono, è stata una grande soddisfazione da questo punto di vista.